Il festival del cortometraggio scolastico, tanti giovani, tante energie spese in funzione del cinema, del cortometraggio. Sì, insomma, sono iniziative secondo me lodevoli quando sono rivolte soprattutto ai ragazzi delle scuole, no? Che hanno tanto entusiasmo, hanno sempre tanta voglia di partecipare, ma soprattutto hanno tanta voglia di dire delle cose. E allora avere uno spazio che gli permette di accogliere le loro idee, le loro necessità anche di espressione e tutto quello che hanno il desiderio e il bisogno di dire è una cosa importante. Una carriera lunghissima che parte addirittura dai villaggi turistici nei tuoi primi momenti e si spende attraverso il teatro, la televisione, le fiction. A quale ruolo è legato di più? A quale di questi tre aspetti principali della sua carriera è più legato? A tutti in maniera diversa e in maniera uguale, perché poi ognuno è servito, è stato fondamentale per il momento nel quale è arrivato e per tutti i momenti nei quali torna. E' diverso perché sono stati momenti diversi della mia vita, della mia carriera, però insomma diciamo che sono tutti ambiti nei quali mi piace sempre cercare di muovermi. Magari nei villaggi turistici ormai non ci passo più, ma sono un ricordo fondamentale. Ettore Bassi, cosa hai in cantiere? Ho finito di girare una nuova serie per Rai 1 che si chiama Arrivata alla Felicità, una serie lunga, è la nuova lunga serie di Rai 1 dell'anno prossimo. Sto per girare una nuova miniserie su un personaggio storico, ho del teatro da fare, insomma quindi ci sono un po' di cose. Ettore Bassi è nato a Bari e qui nel Salento, sempre nella sua Puglia, è emozionante tornare nelle tue terre? Sì, beh io qui sento proprio le radici, anzi da 6-8 mesi sono rientrato proprio in Puglia, sono residente ufficialmente qua, quindi ho proprio voluto riagganciare le mie origini e qui sto bene. La ringrazio. Ciao.